Il risultato che non ti aspetti, che cosa è successo? Il risultato che non ci aspettavamo nemmeno noi, ecco, questo è successo, abbiamo perso 3-0, c'è poco da trovare scuse e lo Spez ha meritato la vittoria. E niente, dobbiamo lavorare per preparare bene la prossima partita con il Frosinone e cercare di fare un gran match, semplice. A punto Frosinone, come si affronta quella partita? Intanto lavorare sulla testa di ognuno e ritrovare la tranquillità, ecco, penso sia fondamentale, perché non è che eravamo fenomeni prima e ora siamo polli. È normale, è un passo falso, sappiamo che perdere in casa è bruttissimo davanti ai nostri tifosi, però nel calcio sono cose che possono capitare, dobbiamo essere bravi a stare uniti, a fare gruppo e a preparare bene la prossima partita, non c'è altra soluzione.